Bentornati in studio. Negli scorsi giorni il ministro Cancellieri ha fatto visita ad Alghero per l'inaugurazione del Museo Altramariglio, oggi sede del Parco di Portoconte. Ha parlato di vari argomenti. Sentiamo. Il sindaco ha ricordato, il sindaco Lugrano ha ricordato uno dei saluti iniziali che è quello della sede di staccata del tribunale di Alghero. Ministro ci dà buone notizie? Non sono in grado al momento. La situazione è molto complessa perché l'operazione è molto vasta e sulle sezioni staccate siamo piuttosto fermi. Stiamo ancora lavorando, stiamo ancora decidendo, però non sono in grado di dare buone notizie. Quando saranno i tempi per una risposta? Noi comunque abbiamo tempo, poi dopo il 2013 eventualmente, di porre dei connettivi. Intanto facciamo una serie di percorsi e poi vedremo. Può rassicurare i sardi che ritengono che praticamente per il carcere di bancali che devono arrivare dei detenuti abbastanza pericolosi, può rassicurare questi sardi che ritengono che non sono d'accordo sul fatto di arrivare in Sardegna? Guardi, il problema è un problema di organizzazione che risale anche ad autorizzazioni determinate a suo tempo dal Parlamento. Comunque possono stare tranquilli i sardi, non ci saranno contaminazioni con il territorio e sarà tutto molto controllato e molto regolato. Un bellissimo carcere tra l'altro con i bancali, molto ben organizzato, moderno, efficace. Io credo che sia un motivo di orgoglio per la Sardegna, più che un motivo di preoccupazione. Che cosa manca in quel carcere? Per quanto riguarda l'organigramma? Secondo me non manca nulla, nel senso che il carcere è molto ben organizzato. Ora sono i primi giorni, dobbiamo dare il tempo alla struttura di avviarsi in una maniera più completa, ma io ho visto una grande efficacia e soprattutto una grande voglia di lavorare bene. Per quanto riguarda l'asinario invece? L'asinario non so, è stato probabilmente qualche misunderstanding, come si soltita, nel senso che noi non abbiamo mai messo in programma. Se poi qualcuno vorrà, noi siamo disponibili, però è una scelta che non tocca a noi, tocca alla regione. E sul tribunale è nata una nuova polemica tra l'attuale sindaco Lubrano e l'ex primo città di Nomarco Tedde. Sentiamo il botte risposta. Da parte dell'amministrazione c'è sempre la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per evitare la chiusura del tribunale, con il conforto del Consiglio Comunale e con la volontà di percorrere tutte le strade possibili, anche quella estrema di convincere il ministro. Così da Sant'Anna riguardo la tematica proprio del tribunale. Le primogeniture continuano, non interessano, ciò che più interessa è lavorare per trovare soluzioni ai problemi. Di questo si occupa il sindaco Stefano Lubrano, che nonostante l'evidente imbarazzo del consigliere Marco Tedde, riceve dal ghiero il ministro Anna Maria Cancellieri, che mantiene la promessa fatta a Roma il 14 giugno. Probabilmente le azioni attuate in pochi mesi con il governo, che si traducono in fatti concreti, possono alimentare un sano fastidio. Il sindaco Stefano Lubrano, continuano da Sant'Anna, ha ricevuto dal ghiero un ministro dopo averne incontrato poche settimane prima un altro, il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, al quale si è chiesto di trovare una soluzione alla vicenda dell'hotel Baia di Conte. Il tutto senza clamori, ma con un ben chiaro proposito di produrre tutti gli sforzi possibili per il bene della città. Appaiono quindi, ancora più stucchevoli del solito, le tardive lagnanze dell'ex sindaco Marco Tedde, a cui non è mai troppo tardi ricordare fatti non tanti remoti, che lo vedono al centro della vicenda del Tribunale di Alghero. Ora si affretta ad affermare che è troppo tardi, dopo le sue velitari iniziative, contro la chiusura della sede di staccata di Alghero. Sono risultati evidentemente inutili i suoi viaggi a Roma. Di ritorno dagli incontri con il ministro Amico, infatti, tranquillizzava la città circa gli esiti ottenuti in merito alla sopravvivenza del Tribunale. Così non è stato, e nonostante egli ritenga vane e tardive le richieste di un intervento del governo, l'ex sindaco ha voluto partecipare ugualmente il 4 giugno scorso a spese dei cittadini algheresi, all'incontro organizzato a Roma con il ministro Cancellieri. Chiudono dall'amministrazione. Provoca tristezza dover costantemente constatare che il sindaco Lubrano continua ingenuamente a credere di poter amministrare utilizzando le mezze verità e le integrali bugie. In relazione alla vicenda del Tribunale, Lubrano è raggiunto il top, così l'ex sindaco Tedde, che risponde all'amministrazione. È, a conoscenza di molti e di alcuni alti pubblici funzionari dei ministeri di giustizia e dell'economia, che il sindaco ha da tempo deciso che presso i locali occupati dal Tribunale giudiziario si dovrà trasferire l'Agenzia delle Entrate. Probabilmente, se Lubrano tacesse, non correrebbe il rischio di essere clamorosamente e ulteriormente sbugiardato. Mentre nessuno, nemmeno i funzionari del Ministero di Giustizia, è a conoscenza del fatto che il sindaco abbia inviato al Presidente del Tribunale una richiesta di proroga del nostro Tribunale entro il 30 aprile in applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 155 del 2012, potrà dimostrarlo anche ora, se vorrà e potrà. «Rimaniamo in attesa e se lo dimostrerà, ne prenderemo atto con soddisfazione». Ma, conoscendo la naturale predisposizione verso la propaganda, è forte il sospetto che egli si sia assolutamente dimenticato. Circa le sue accuse, continua Tedde, fatte al sottoscritto, di aver fatto nel 2008 viaggi inutili a Roma per incontrare l'allora Ministro Alfano, al fine di evitare la chiusura della sede staccata di Alghero, Lubrano dimostra di avere una scarsa propensione ad informarsi. Se avesse approfondito la materia, avrebbe scoperto che nel 2008 non era ovviamente entrato in vigore il Decreto Legislativo 155 del 2012, che ha cancellato il Tribunale di Alghero. Ma era assorto il problema della decisione del Presidente del Tribunale di ridurre l'attività giurisdizionale del nostro presidio giudiziario. Su mandato del Consiglio Comunale, incontrai il Ministro Alfano e sollecitai i sindaci di 19 comuni del distretto ad attivare analoghe iniziative consigliari. E se il sottoscritto, approfittando della disponibilità di alcuni autorevoli personaggi, si è attivato assieme all'assessore Daga per far incontrare al Sindaco il Ministro, l'ha fatto per stimolare Lubrano, che fino ad allora non aveva mosso un dito per salvare il Tribunale. Probabilmente non era interessato a farlo, posto che a Roma si è recato a torto collo e nel frattempo aveva stretto accordi con l'Agenzia delle Entrate. Questi fatti, e conclude Tedde, la propaganda e le solite mezze verità integrali bugie sono integrale monopolio di Lubrano, che continua ad occupare il suo tempo in lanci pubblicitari e conferenze stampa, piuttosto che occuparsi dei problemi degli algheresi e di una città che soffre.